Il presidente della regione Mario Liverio durante la sua visita di ieri nel centro storico di Cosenza ha annunciato uno studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale Bruzio. L'annunziata è una struttura ormai inadeguata e il nuovo ospedale della città dovrà nascere a Vagliolise, un'opera nuova e moderna che farà da raccordo per tutta la provincia di Cosenza. Queste le parole del governatore che ha definito il nosocomio Bruzio l'ospedale hub più vecchio della Calabria, ormai del tutto inadeguato. La mia idea ha anticipato Liverio e che bisogna realizzarlo in uno spazio che abbia respiro e sia prossimo ai collegamenti viari e ferroviari e per questo che penso all'area di Vagliolise ma poi sarà il consiglio comunale a determinarsi. L'avviso infine per lo studio di fattibilità che sarà pubblicato agli inizi di settembre e si spera che entro la fine dell'anno si possa essere pronti per far partire la gara. Entro questa legislatura ha poi concluso Liverio Cosenza deve realizzare questa grande e importante opera.